Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antena 2. Intense correnti settentrionali ci stanno interessando in queste ore, portando anche venti di fön con temperature particolarmente miti anche in montagna. Nella giornata di domenica assisteremo a cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutti i nostri settori, con una tendenza ad un'attenuazione del vento a partire dai settori più meridionali del nostro territorio. Durante la settimana prossima assisteremo a un inizio di settimana con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma nella giornata di martedì invece arriverà qualche nuvola sul nostro territorio a indicare qualche segnale di cambiamento sul nostro territorio aerobico. Infatti già nella giornata di mercoledì assisteremo all'aumento di nuvolosità un po' su tutti i nostri settori, ma senza precipitazioni di rilievo. Nuvole che si alterneranno a schiarite con temperature anche in lieve diminuzione già a partire dalla giornata di martedì. Mercoledì abbiamo detto cieli in prevalenza nuvolosi, poi nella giornata di giovedì assisteremo anche a qualche isolata debole pioggia sul nostro territorio e qualche locale fiocco di neve, ma oltre i 1200-1400 metri di altitudine. Nella giornata di venerdì saremo interessati da delle correnti umide atlantiche che ancora attraverseranno il nostro territorio con cieli in prevalenza nuvolosi e ancora qualche debole pioggia un po' sparsa sul nostro territorio con la tendenza anche di nuovo a un calo delle temperature, uno zero termico che si posizionerà intorno ai 1500 metri di altitudine garantendo ancora qualche locale fiocco di neve oltre i 1400 metri di altitudine. Quindi diciamo che nel complesso fino a Natale ci attendiamo poche variazioni del tempo avremo appunto questi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi grazie all'anticiclone che manterrà ancora stabilità atmosferica sul nostro territorio mentre a partire da circa metà della settimana prossima diciamo da partire da Santo Stefano assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità si affaceranno le prime nuvole e le prime correnti umide proveniente da ovest nord ovest a portare un cambiamento del tempo un calo delle temperature che sarà più avvertibile fra mercoledì e giovedì prossimo con l'arrivo anche di qualche isolata e debole precipitazione e nevosa solo oltre i 1300-1500 metri di altitudine. Con l'occasione porgo a voi e a tutte le vostre famiglie auguri di trascorrere delle festività natalizie serene dal punto di vista anche meteorologico visto che sarà così e ci sentiamo sabato prossimo su Antenna 2 con gli aggiornamenti meteo.